Il sodalizio, organizzato in una struttura piramidale, sfruttava una fitta rete di pusher e di vedette sul territorio, ai quali, in caso di arresto, assicurava tutela legale ed economica. L'associazione, radicata nel quartiere di Tor Pignattara ed influente anche nel quartiere del Pigneto, era in grado di offrire la vendita di tutti i tipi di stupefacenti, anche di diversa qualità, identificata con nomi fantasiosi ed originali, ben noti agli acquirenti della movida universitaria della zona.